ciao sono veronica tudor e sono qui per porti una sfida ti sfido al pink fit challenge ti sfido ad accompagnarmi in uno stimolante programma di allenamento di soli 21 giorni che ha l'obiettivo di farti perdere fino a due chili e mezzo tonificare tutto il tuo corpo e portarti alla migliore versione di te in solo tre settimane la sfida fa per te se sei una di quelle donne o ragazze piuttosto pigre che ci provano sempre ma per qualche motivo muolano subito vorresti iniziare una nuova abitudine per stare meglio con te stessa e con gli altri così da tornare in forma perfetta ma proprio non ce la fai ti sfido a seguirmi nel percorso di allenamento che ho pensato per farti ripartire alla grande oppure sei già abituata ad un rigoroso programma di allenamento sei soddisfatta ma vorresti di più ti piacerebbe confrontarti con me e osservare attentamente quanto può risultare più slanciato e tonico il tuo corpo al termine dei 21 giorni di allenamento intenso ti sei sentita tirata in causa in una delle due iscrizioni allora partecipa alla sfida devi solo inserire le informazioni qui sotto e inizia da subito a seguirmi nel programma di allenamento occhio però non perdere neppure una sola lezione una sfida va onorata fino in fondo e ricorda basta scuse e muovi il culo grazie a tutti